Le casse di espansione nei pressi dell'impianto di sollevamento di Castelletti a Signa sono diventate campi di fiori a tutela degli insetti impollinatori come le api. Il progetto si chiama Bee Scrubs Biodiversity e unisce l'importanza delle opere idrauliche con un servizio a tutela delle biodiversità. Il progetto è sviluppato dal Consorzio di Bonifica 3 Mediovaldarno insieme all'Università di Firenze e alla Regione Toscana. È un periodo difficile, dal 2018 ormai che la comunità europea ha lanciato un allarme sugli insetti impollinatori che per colpa molto nostra, molto dell'uomo, stanno via via sparendo. L'inquinamento ambientale, i cambiamenti climatici, l'agricoltura intensiva e l'utilizzo dei pesticidi sono tutti elementi che vanno a compromettere l'habitat di questi insetti che pensate sono i responsabili del 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali globali. In queste aree destinate al contenimento delle acque di piena sono state seminate due specie di leguminose per creare un habitat particolarmente favorevole alla riproduzione degli insetti come le api. Il Consorzio a tutto tondo è un ente che si occupa di corsi d'acqua, di opere idrauliche e all'interno di questa nostra occupazione primaria c'è anche queste opportunità di interazione con la società, di interazione con la scienza che sempre di più intendiamo valorizzare. Il progetto è stato presentato in occasione della giornata mondiale delle api, le specie seminate in circa 6 ettari sono il trifoglio incarnato che ha fioriture rosse e violacee e il trifoglio bianco che, come si evince dal nome, ha fioritura bianca. I tempi di fioritura sono sfalsati per dare agli insetti il massimo periodo di presenza di nettare ed assicurare così il massimo nutrimento. I tempi di fioritura sono sfalsati per dare agli insetti.